Riproviamo la diretta perché Ercalori c'è un telefonino che se ne sta andando, ha lavorato tantissimo e ogni tanto si spegne da solo e se sa perché. Lo porteremo in assistenza. Bene, dopo questa ricca colazione oggi di che parliamo? Di felicità, bisogna essere felici. La mattina quando noi scendiamo dalla camera o dal letto naturalmente, mettiamo i piedi a terra, ci connettiamo con il mondo. Battere i piedi ragazzi, perché se siamo propositivi la mattina, tutta la giornata sarà bellissima. Io come tecnica uso che la mattina quando mi limpio i denti, sorrido, pure se non mi va. E fortunatamente per magia, tutto il giorno sorrido e sono felice. Bene, dopo di questa chiacchierata o pillola di sapere della mattina, iniziamo una giornata pimpante. Ieri sera ho pubblicato il libro Musicando che sto redando da qualche anno, dove ci sono tutti i miei segreti per parlare di questo format Musicando PNL qui in Canarias, perché Canarias nei prossimi anni erigerà questo posto come il miglior posto al mondo per vivere felici. Per il suo clima, perché fa da padrone questo clima meraviglioso che ti dà questa sensazione di benessere e ti aiuta a essere positivo. Ho pubblicato una foto e poi la riproporrò in questo video, sette anni in Tenerife, come il film, sette anni in Tibet. Adesso con questa conferenza che verrò a fare in Italia, dopo questi sette anni di meditazione, vorrei aiutare i miei colleghi parrucchieri perché sto ricevendo veramente tante chiamate, tanti scritti, mi sto contattando con tantissimi parrucchieri, che è una delle cose che mi dicono che hanno tutte le persone demotivate. Beh, io sinceramente mi sono desprogrammato da sette anni e ho l'argento vivo da proporre. Allora, stiamo organizzando in diretta dal 4 al 13 maggio che verrò in Italia per una vacanza, per venire a trovare i miei cari e anche per lavorare e portare questa voce di musicando a tutti i parrucchieri depressi che vogliono cambiare vita. Secondo me non è andassene via, ma è come ci riponiamo sulle cose. Vale, perfetto. Io spero di despertare o risvegliare qualche parrucchiere che mi possa chiamare perché ieri mi hanno chiamato due negozi con 13 persone che lavorano e ho detto questo negozio che spero al più presto di fare una conferenza e spiegare che cos'è musicando, che si può applicare per la bellezza, per le persone che verso i 50 anni non si piacciono più o rimangono con dei ricordi nel passato e noi attraverso la respirazione e la visualizzazione gli insegneremo come cambiare questa immagine. All'inizio meccanicamente ripetendo, ripetendo, ripetendo ma poi il cervello in automatico andrà. La stessa tecnica di musicando PNL si può anche utilizzare in tantissime altre cose e in tantissimi altri campi non solamente i parrucchiere, per avere successo e essere una persona triunfatora come in spagnolo o invece di vivere una vita mediocre, non sforzarsi e rubare se vogliamo. Allora, io sto dalla parte dei triunfatori. Allora, io sto cercando leader, leader per trionfare perché un paese lo possa migliorare l'imprenditore perché se migliora la sua qualità economica gli avendo successo migliora la sua famiglia e migliora tutte le persone che lavorano per lui. Ok, cerco leader. Leader possono essere in tutto il mondo. Questa scuola Academy Musicando PNL in Canarias per creare leader qui in Canaria e migliorare ancora di più la parte economica di questo arcipelago fantastico dove si può vivere felici sempre qualsiasi cosa possa accadere nella nostra vita. Bene, io questo messaggio l'ho inviato vi aspetto numerosi scrivetemi se avete questo problema di essere infelici che il Callori cercherà di aiutarvi con questi sette anni in Tenerife sull'isola più bella del mondo. Grazie, Francesco Callori vi augura una giornata fantastica. Ciao! Grazie. Grazie.